Legami positivi o negativi? Perché le antipatie e le simpatie istintive? Commento Perché sono spesso legami positivi o negativi stabiliti in vite precedenti? Legami che hanno lasciato delle tracce. Nel momento in cui, a livello di coscienza, sentiamo l'altra persona, sentiamo che cosa è accaduto con questa e abbiamo una reazione vibrazionale, spirituale, per cui riaffrontiamo il legame che non è stato risolto. Il legame deve essere comunque superato, altrimenti le due persone resterebbero ferme e la legge non lo permette mai.